Nella giornata in cui si prega per la Terra Santa, il Papa rinnova l'appello per la liberazione degli ostaggi e la tutela dei civili. Sentiamo Enzo Romeo. L'arma della preghiera per far tacere le armi di morte in Terra Santa. Oggi giornata penitenziale proposta dal Patriarca di Gerusalemme, larga l'adesione. Il Cardinale Pizzaballa, Tg2 Post, ha ribadito ad essere pronto a offrirsi in cambio degli ostaggi, ma sa bene quanto si è intricato il groviglio israelo-palestinese. Anche il Papa, con un messaggio social, invita a partecipare alla giornata di preghiera e digiuno. Siano liberati gli ostaggi e i civili messi in salvo, si rispetti il diritto umanitario e non si versi altro sangue. All'agenzia argentina TELAM sottolinea che non può esserci sicurezza senza dialogo. Nemico del dialogo è la guerra, generata da sfruttamento e sette di dominio. Per ricordare le vittime delle guerre, il 2 novembre Francesco celebrerà la messa dei defunti al cimitero militare di Roma. Per le nuove generazioni va costruito un futuro diverso, pacificato. Presentato in Vaticano, l'incontro che il Papa avrà lunedì 6 novembre con i bambini di tutto il mondo. Preoccupazione e dolore nel cuore, anche la speranza dei bambini. Due sentimenti alla base di questo nostro percorso.